No, no, il medley di canzone napoletana, è un qui, un qui, un qui, un qui, ecco, grazie. Però per cantare questo medley io ho bisogno, appunto, come hanno detto le nostre ragazze, di Maria, Maria Aprile. Maestro, ecco qua, a gengio vicino a lei, ecco qui, Maria Aprile. Allora, prima canzone. Questa ha per me un significato particolare. Stata vicino a me, bene da sera, tu non puoi sapere come si cana. Maestro, questa canzoncina, sa perché mi è molto cara? Perché quando sentì per la prima volta il telefono Teddy Reno, lui me la cantò al telefono, a cappella, con una voce pulitissima, 88 anni, quando ci siamo sentiti, ora ne ha qualcuno in più portati splendidamente. E mi fece un onore Teddy Reno. Quando lo intervistai per un programma televisivo, lui disse, non chiamarmi signor Ricordi, chiamami Ferruccio, perché io per il mondo sono Teddy Reno, per gli amici sono Ferruccio. Hai capito che onore? Ma questi artisti umili, dove stanno più la vecchia scuola? E Maria, io penso che però, parlando di amore, di questi sentimenti così alti, la canzone napoletana più famosa sull'amore, sul bacio, è Etevoria Vasant. Vai. Ma che bella aria fresca, La canzone di amore, è Etevoria Vasant. La canzone di amore, è Etevoria Vasant. La canzone di amore, è Etevoria Vasant. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.